I fenici. Un popolo di navigatori. I fenici, una civiltà marinara. I fenici erano un'affascinante civiltà antica nota per le sue abilità marittime e il commercio. In questo articolo esploreremo le loro origini, il loro modo di vivere e il loro contributo al mondo antico. Si ritiene che i fenici vivessero nell'attuale Libano, una stretta striscia di terra lungo la costa orientale del mar Mediterraneo. Le montagne di questa regione erano ricche di alberi di cedro, che fornivano ottimo legno per la costruzione e la costruzione navale. Fu naturale per i fenici concentrare le loro attività sul mare, diventando abili navigatori e commercianti. I fenici vivevano in città-stato indipendenti, ciascuna governata da un re. Tuttavia, le decisioni del re non erano assolute. Erano assistiti e monitorati da un'assemblea di anziani, in rappresentanza delle famiglie di mercanti e armatori. La maggior parte della popolazione era costituita da mercanti, marinai, artigiani, pastori e agricoltori. Le donne nella società fenicia si occupavano principalmente della famiglia, ma alcune potevano anche diventare sacerdotesse. I fenici erano politeisti e adoravano varie divinità della natura. Ogni città aveva i propri dei e dèe, i più importanti erano El, il dio creatore, Baal, il dio della pioggia e del vento, e Astarte, la dea della fertilità. I fenici erano conosciuti in tutto il Mediterraneo per le loro abilità nel commercio marittimo. Acquistarono materie prime come cereali, rame, argento, avorio e pietre preziose da altre civiltà e le usarono per creare ceramiche squisite, gioielli, oggetti in bronzo e tessuti colorati. A partire dal 750 a Tocolomb, i fenici fondarono colonie lungo la costa settentrionale dell'Africa e in altri luoghi lontani che raggiungero attraverso le loro navi. Queste colonie mantennero le leggi, la religione e la lingua della loro patria. Alcune colonie divennero così potenti da fondare proprie colonie, come Palermo in Sicilia, Cagliari in Sardegna, Cadice in Spagna e Tangeri in Marocco. La colonia più famosa e importante fu Cartagine, fondata nell'814 a.C. dal popolo di Tiro nell'attuale Tunisia. I fenici erano abili costruttori navali e navigatori. Hanno introdotto innovazioni per rendere le loro navi adatte ai viaggi in mare aperto. Le loro navi includevano la nave mercantile ampia e curva e la nave da guerra più stretta e leggera. Utilizzavano vele quadrate per sfruttare la forza del vento e avevano un timone nella parte posteriore per governare la nave. Le navi avevano un ponte per proteggere il carico, una chiglia per la stabilità e un ancora per fermare la nave quando necessario. I fenici perfezionarono l'arte della lavorazione del vetro utilizzando una tecnica appresa dagli egiziani. Creavano bellissimi oggetti e gioielli in vetro soffiando il vetro fuso e aggiungendo sostanze colorate per ottenere sfumature di blu, viola, rosso e arancione. Inventarono anche il primo alfabeto fonetico della storia, composto da 22 simboli che rappresentano suoni diversi. Successivamente i greci aggiunsero le vocali a questo alfabeto. Questo sistema di scrittura semplificato si diffuse rapidamente tra le civiltà con cui commerciavano. Uno dei prodotti più pregiati immerciati dai fenici era la porpora. Questo colorante naturale è stato estratto da un mollusco chiamato murice. I fenici immergevano i molluschi in grandi vasche con poca acqua per diversi giorni. La sostanza risultante veniva poi bollita in contenitori di piombo per creare il colorante utilizzato per colorare i tessuti. Per ottenere una piccola quantità di colorante era necessario un gran numero di molluschi rendendolo un prodotto molto prezioso e costoso.